Amici di Gazzetta del Sud, nuovo appuntamento con lezioni di pranzo. Oggi vi portiamo a Vibo Marina, nel cuore della Costa degli Dei, in un ristorante storico appunto qui della provincia di Vibo Valencia. Siamo all'approdo di Vibo Marina, già ristorante stellato in passato, inserito in guida Michelin ovviamente. Siamo insieme alla proprietaria, alla signora Concetta Greco, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, chef Agostino Bilotta, che ci andrà a presentare il suo piatto. Intanto, appunto, grazie signora per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per essere qua. E allora, subito chef, cosa andiamo a presentare ai nostri amici, lettori di Gazzetta del Sud? Oggi ti preparo, allora, siccome siamo in Calabria, qua abbiamo la cipolla rossa di Tropea, che facciamo una crema. Non può mancare ovviamente nella Costa degli Dei. Questa è una cipolla stufata e poi passata al mixer, aggiustata con tutti gli aromi, erba cipollina, tima e tutto il resto. Questo è del pane abbrustolito, pane raffermo e poi tostato e passato alla... Preparato da voi? Sì, preparato da noi, preparato con l'essenza di bergamotto. E questa è la tartare di tonno, aggiustata con maggiorana, erba cipollina e i capperi. E questo viene fatto come fondo del piatto. Possiamo preparare. Quindi subito nel cuore della preparazione del piatto, subito con il fondo di tartare. Tartare è una tartare. Questo chef è un piatto mass della cucina della Prodo, immagino. Diciamo che ne abbiamo venduto parecchio di questo piatto qua, perché diciamo che è un piatto tipicamente calabrese. Abbiamo il tonno che è pescato qua nei nostri mari, la cipolla di Tropea, il pane che facciamo noi tostato e la stroncatura qua, sempre in Calabria. Quindi sul menu il cliente che arriva alla Prodo trova appositamente il nome di questo piatto, che andiamo a riassumere. Stroncatura con crema di cipolla, tartare di tonno e pane tostato al bergamotto. Come vedete un primo di grande livello, di grande qualità. Prima di ritornare con Chef Agostino, signora Greco, ovviamente cucina di mare qui alla Prodo. Esattamente, prevalentemente nella nostra cucina sono piatti di mare. Siamo qui a due passi dal porto, mentre prima c'era sicuramente un pescato un po' più importante, adesso si è ridotto, però la nostra specialità primaria è la preparazione del pesce, cercando di riscoprire sia i pesci che una volta venivano poco utilizzati, e quindi ridare valore a questo tipo di pesce, prevalentemente sul pesce azzurro, e sia una rivisitazione di quelli che erano i piatti, come venivano preparati una volta. Chiaramente senza stravolgerli, ma cercando delle tecniche moderne, mantenendo però fedele all'originale ricetta. Insomma, Chef Agostino, ovviamente struncatura che è ormai diventato un piatto storico della cucina calabrese, ve l'abbiamo fatto vedere anche con Chef Gaetanalia a Castrovillari, che lei immagino conoscerà bene. Siamo molto amici. E questa è una pasta che si può abbinare con i pomodorini, le cozze, pomodorini in duia, uno si può sbizzarrire come vuole, perché giustamente è una pasta che, come l'ha detto prima, si sposa con qualsiasi ingrediente. Qua abbiamo questo connubio straordinario tra tonne e cipolla. Sì, tonne e cipolla è la sua morte, ecco, è proprio un piatto calabrese. Torniamo al discorso della signora Greco, nel senso che ovviamente qui abbiamo una cucina di alta qualità, che coniuga tradizione e innovazione. Tonne e cipolla, ingredienti semplici, ma abbinati, cucinati, lavorati in modo tale da dare davvero estro qualità, creatività. Sì, vabbè, ogni giorno viene cambiato il menu, viene in base al pescato, poi arrivano tanti tipi di pesce, poi decidiamo in cucina come metterli sulla carta. Ecco, oggi abbiamo questo filone di tonno e abbiamo pensato di fare questa ricetta qua, una ricetta che praticamente l'abbiamo inserita e che va molto bene. La gente ci fa i complimenti, quando ritorna la cerca, cerca di trovarla. Noi siamo contenti di aver scelto questo piatto per tutti quanti e speriamo di essere sempre all'altezza, di poter soddisfare le persone, i nostri clienti che vengono a trovarci ogni giorno. Allora, Chef Agostino, la struncatura è pronta? È pronta, sì. E si va a mantecare con questo? Con una crema di cipolla. Con questa crema di cipolla? Con questa crema di cipolla, sì. Ovviamente cipolla rossa di tropea, tutti prodotti rigorosamente freschi, dal tonno. Tropea, che io ho tagliato a sottile e sottile, l'ho fatta cuocere piano piano nella padella e ho passato al mix. Si va a mantecare la struncatura nella crema di cipolla? Crema di cipolla. Sarà pronta poi per essere adagiata sulla tartare? Quasi pronta. Mettiamo un po' di olio a crudo. Filo d'olio appunto a crudo, sempre calabrese. Ovviamente piatto che ha bisogno di una sua preparazione prima, con la preparazione della crema di cipolla e della tartare, poi sostanzialmente, terminati questi due passaggi, bisogna solo cuocere la struncatura e fare questa mantecatura. E mettere e adagiare nel piatto, come già abbiamo messo prima, la tartare. Sono del tonno tagliato a piccoli, a coltello sempre, a piccoli tocchettini, aggiustato come ho detto prima con capperi, erba cipollina, menta e olio extravergine d'oliva. Mantecato bene bene e messo nel piatto, al centro del piatto. Eccoci pronti con Chef Agostino Bilotta per andare ad impiattare questa splendida struncatura. Allora, la struncatura è bene amalgamata con la crema di cipolla e andiamo a impiattare. Eccoci qua, in questo... Ho messo già, ripeto sempre, la tartare di tonno al centro del piatto. Fondo di tartare di tonno e struncatura con crema di cipolla da giallo. Pane tostato al bergamotto, il pane raffermo tostato al bergamotto, e un pizzico di menta, e sempre l'olio a crudo ovviamente. Eccolo là, si toglie. E il piatto è servito. Questo è uno straordinario piatto della cucina dell'approdo, la struncatura con fondo di tartare di tonno e ovviamente struncatura cotta poi e mantecata con la crema di cipolla. Signora Greco, questo è un piatto veramente per alti palati, ma che può essere anche riprodotto a casa. Assolutamente sì, è facile da preparare, basta avere gli ingredienti che Agostino ha elencato e credo che ogni signora a casa può riprodurlo tranquillamente, ci vuole un po' di tempo, più che altro per la cottura della pasta, che è una lunga cottura, ci vogliono da 14 ai 16 minuti. Però per il resto, come avete visto, i passaggi sono molto semplici e quindi altrettanto, quindi facili da riprodurre. Assolutamente, anche perché parlavamo della struncatura di chef Gaetanalia, ma anche lo stesso chef Ercole Villirillo a Crotone per esempio ha usato la tartare di tonno per un suo piatto, gli scelatelli anche con la zucca. Questo per dire che si tratta ovviamente di un primo, chef Agostino, signora Concetta Greco, ma qui praticamente abbiamo un piatto unico. Abbiamo il tonno, abbiamo la pasta, abbiamo la cipolla, quindi ovviamente voi lo trovate in menù come primo, ma qua praticamente ci si può soddisfare. Con tanti ingredienti. Beh, sicuramente se volessimo dare questa interpretazione lo si può, perché è un piatto completo, per cui abbiamo veramente la possibilità di poterlo anche consigliare come piatto unico. Chef, c'è tanta voglia di ripartire immagino, di ritornare ai fornelli, lavorare. Speriamo, speriamo dopo tanti mesi che siamo a casa, che non sappiamo nemmeno cosa dobbiamo fare, speriamo di ricominciare al più presto possibile, perché la nostra vita è qua, perché la clientela ha bisogno pure di noi, noi abbiamo bisogno di lavorare e speriamo che sia giusto tutto nel migliore tempo possibile. Qualità, cortesia, accoglienza, immagino che non vediate l'ora appunto di ritrovare clienti nuovi, clienti storici, qui all'approdo ne arrivano da ogni dove, turisti, stranieri. Sì, sicuramente questo è stato un lungo periodo, perché ormai parliamo di oltre un anno, dove proprio le nostre attività sono state quelle che hanno maggiormente risentito di questa situazione sanitaria. Sicuramente non vediamo l'ora di ripartire, anche perché credo che ci sia anche nelle persone un grande desiderio di poter riappropriarsi della propria vita, di fare le cose che prima forse davamo per scontato e adesso ci accorgiamo di quanto valore hanno anche le piccole cose che normalmente facciamo. Chiaramente tutto questo noi ci stiamo anche preparando per mantenere sempre quegli standard di sicurezza, per garantire i nostri ospiti, ma per essere garantiti anche noi. Per cui abbiamo grande voglia di riprendere in mano il nostro lavoro e di poter essere nuovamente pronti ad accogliere, perché dell'accoglienza noi ne abbiamo fatto proprio il nostro primo punto più importante della nostra attività, e di poter riaprire la porta ai nostri nuovi e vecchi clienti che stanno aspettando, ci auguriamo che stiano aspettando, di ritrovarsi qui all'approdo. E allora a me non resta che ringraziare lo chef Agostino Bilotta, la proprietaria Concetta Greco, il signor Lopreato, la famiglia Lopreato, che guida da tantissimo tempo ormai questo locale storico a Vibomarina, un pranzo qui, una cena e poi una bella passeggiata qui su Corso Michele Bianchi. Grazie ancora, chef Agostino Bilotta. Grazie a voi dell'opportunità che ci avete dato, grazie ancora a tutti quanti i nostri telespettatori e che posso dire, buon appetito quando gusterete il nostro piatto. E grazie alla signora Concetta Greco, alla prossima. Grazie a voi e speriamo di rincontrarci presto, in un'occasione migliore. Grazie, buon appetito a tutti, buona domenica, alla prossima con lezione di pranzo su Cazze del Sud.